musica 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 maneggevolezza non la testiamo ma non credo che siamo ai livelli della max no assolutamente no ma camento abbiamo partito un motore anche a te cazzo abbiamo perso due gondole insieme ma che cazzo è successo ho solo riacceso il motore ragazzi cazzo mi hai distrutto metà nave tentazione non volevo stiamo qua a ondeggiare nel vuoto adesso eh mamma aiuto intanto scansiono un po' di di navi se non scansionare non è che ci vergogniamo cos'è sto rumore se non bestemmio ma cosa fa questo cos'è 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 ti è sparita la nave cos'è cos'è è questo è come Parkinson Morby sì 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 è una feature oh yes siamo Alessio è morto più o meno c'è qualcuno sopra io ero sopra ma son crashato quindi ci sarà il mio cadavere eh sì bellissimo cadavere spiazzato sull'ascensore mi sento lecco di guardare la data del video eh ma adesso l'aquila questa qui ce l'ha indietro la mia ce l'ha aperte allora può essere che sia disaccoppiata mica disaccoppiata eh cosa c'è cos'è cos'è se la ride se la fai se la ride da solo io ho fatto uno dei migliori gesti che hai spazietto per buttare qualche cassetta hai due letti per dormire in top adesso facciamo entrate sull'ossa e scendete senza che io atterri facciamo questa prova ahah vai prendi tutto eh io non sto usando per nulla la terza persona ho visto quindi vi assumete la responsabilità ah sì sì confermo uno o l'altra è uguale geniale chiudi la porta però perché è rischioso lasciarla aperta chiuso chiuso oh cominciamo già a saltare eh io vedo tutto trasparente ah ok ok ci siamo ma sei fermo a corsare con la nave? aspetta che vi scorta aspetta che vi scorta ah 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 cramento non muoverti però non muoverti dio madonna adesso non riesco più non riesco più a scendere adesso io perché mi sia ribaltata mentre tu ti muovevi con me ce l'hai? eh sì cazzo guarda com'è ridotta adesso la facciamo stiamo arrivato per l'aria devi dargli un colpo di lato esatto in maniera che caschi vai un po' anche pancia in su pancia in su pancia in su così scivolo eh lo so ma tu vai ne ho sei va bene intanto va ca puttana ca puttana che cazzo che meraviglia ragazzo va come va oddio madonna io non capisco il range di queste aree ma me sei venuto addosso? ahah ca boia ma chi è stato? tu sei venuto addosso a 200 tu sei venuto addosso a me eh oh ero quasi fermo come ho fatto? ma almeno ti ho ucciso? no ah ti è morto? eh vacca di oh l'ho ripresa l'ho ripresa questa qua è bellissima cazzo guarda guarda come sbattono ma no guarda come sbattono mamma mia cazzarola mi manca una ala guarda 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 fuori guagli no guarda arco ucciso non